Stesse regole dei comuni mortali. La scomparsa del principe Filippo e la solitudine della regina accompagnata dall'angoscia sono l'emplema del triste momento che unisce nel dolore le migliaia di famiglie di tutto il mondo alla famiglia reale. C'è una immagine della regina Elisabetta ai funerali del marito che ha fatto il giro del mondo. Quella immagine ci ricorda che la pandemia non fa distinzioni, che la morte in tempo di Covid costringe tutti alla solitudine assoluta senza abbracci e strette di mano, con l'estremo saluto negato dalle circostanze. Ai funerali del principe Filippo erano 30 le persone ammesse alla funzione perché in Inghilterra possono partecipare ai funerali solo in 30, scelti tra i familiari, con l'eccezione di qualche amico. Un addio intimo dunque, nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento e il rispetto dei divieti di assempramento, regole che valgono per tutti. Era stato il Vescovo di Bolzano qualche anno fa a ribadire che davanti alla morte nessuno può appellarsi a titoli e onori. Una sacrosanta verità sancita dal Covid con il morire in solitudine senza alcuna differenza.